Il 7 febbraio 1992 a Maastricht, nei Paesi Bassi, viene firmato il Trattato sull'Unione Europea. Cessa di esistere la CE, nasce la UE. Il documento contiene i tre pilastri su cui si fonda la nuova Europa. La Comunità Europea, che avrebbe inglobato la CECA, la CE e la CEA, la politica estera e la sicurezza comune, affari interni e giustizia. A Maastricht i 12 Paesi, allora aderenti alla CEA, sotto la presidenza di Jacques Santerre, fissono anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. Sono le premesse per la nascita dell'Euro. Le cronache economiche ci ricordano ogni giorno quel 3% tra deficit e pil che ci accompagna dal 1992.